Approfittando dei giorni segnati in rosso in calendario, sabato, domenica e lunedì 1800 giovani provenienti da tutte e nove le province siciliane, facenti parte delle chiese cristiane evangeliche Adi della Sicilia, si sono radunati assieme per pregare il Signore. Ad ospitare il ventiquattresimo incontro regionale è stato per la prima volta il pala congressi del villaggio Mosè di Agrigento. Negli anni passati l'incontro giovanile si era svolto sempre in provincia di Catania. Chi ha sete venga a me e beva. Testo tratto dal Vangelo di Giovanni è stato il tema dell'incontro dove al centro delle riunioni di culto e di studio biblico, come sempre, è stata la predicazione della parola di Dio. Durante i tre giorni i giovani provenienti da tutte le province siciliane hanno pregato e cantato degli inni di lode e di adorazione al Signore. Predicatore ufficiale del raduno è stato un pastore francese, ma di origini siciliane, François Matinat, che è stato tradotto dal pastore Antonino Mancuso. Impegnate per la riuscita dell'incontro sono state anche le strutture alberghiere adiacenti al pala congressi che in questo periodo di crisi economica hanno potuto tirare un sospiro di sollievo, ospitando la folla di giovani in arrivo.